Sabato 19 aprile, alle ore 17.30, alla presenza delle autorità istituzionali, dei presidenti dell'US Fracor, Nedo Guidieri ed Ezio Mannucci, e del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, sarà inaugurata la Casa del Ciclista. La foresteria, nata dalla ristrutturazione dell'ex scuola elementare di San Leolino. La cessione dell'edificio con contratto di usufrutto ha permesso di instaurare una virtuosa collaborazione tra il comune di Bucine e la US Fracor, la storica associazione di ciclismo di Levane. E così, grazie anche alla cooperazione di numerose aziende, di associazioni e singoli cittadini, è stato possibile restituire alla cittadinanza un edificio da anni abbandonato in cerca di una nuova identità, trasformandolo dal luogo per allenare la mente al luogo per far riposare non solo chi allena solo la mente, ma anche il corpo. La Casa del Ciclista sarà un'efficiente foresteria, che permetterà non solo di ospitare i ciclisti del team Fracor, ma anche di animare, grazie al travolgente entusiasmo del ciclismo, la quiete collina del Foscolo. Di fatto la cittadinanza ha promosso ed organizzato con l'US Fracor per il 25 aprile il primo trofeo San Leolino ciclisti in bianco e nero. Una gara dall'antico sapore, grazie al tratto di strada sterrata che i ciclisti dovranno affrontare alle pendici di San Leolino.